signori e signori buongiorno ci troviamo sul lago di scutari ricordiamo sempre che siamo in gita in almania e qui praticamente siamo su questo lago che il più grande lago dei balcani sto cercando di inquadrare delle mucche le vedete lì in fondo che sono andate a bagnarsi nel lago lì praticamente ci sono anche le pecore più in fondo si dovrebbero entra vedere e praticamente ecco lì c'è il pastore vedete che si muove lì ci sono i pecore più sotto e questo è una veduta panoramica di questo immenso lago veramente grande è il lago più grande dei balcani per dovere di cronaca questo lago si trova proprio attaccato alla città di scutari sono anche le barche ed è un lago che praticamente con divide l'albania dal dalla parte della jugoslavia del montenegro perché qui praticamente ci troviamo al confine dell'albania quasi verso il montenegro praticamente quelle montagne che vedete davanti sono il montenegro fanno parte dell'ex jugoslavia e da qui una volta si sbarcava con delle piccole imbarcazioni si andava in montenegro e dal montenegro poi ci si dirigeva verso l'italia l'america la frangia e altri stati quando si scappava dall'albania adesso questo lago è molto più tranquillo ed è diventato una meta turistica qui potete vedere c'è un ristorante c'è la gente che mangia sopra noi ieri abbiamo pranzato in questo ristorante qua di fronte a base di carpe molto grandi ecco che sta venendo il piccolo luigi dove vai loro e vieni qua però devi stare bravo bravo dai la mano papà vieni che andiamo a vedere il lago andiamo a vedere il lago c'è anche lo zio e il fratello di mia moglie oggi una splendida giornata ci sono 39 gradi anche oggi qui chiaramente però il caldo non è quello che c'è da noi perché praticamente un caldo molto più secco saluto guardando questo splendido lago saluto il mio amico carmine bruno che non è voluto venire e vuol dire che poi verremo di nuovo chiaramente faremo un giro dalla croazia verremo sì ci sono le mucche la anche le pecore e verremo qui a coplicco perché è una delle ultime cittadine dell'albania devo dire questo soggiorno qui è stato meraviglioso oggi è secondo giorno dobbiamo andare via che mia socia vuole tornare a beratte quindi andremo via ma io avrei preferito rimanere qualche giorno ancora qui a coplic a godere lo splendido panorama di questo lago qui praticamente siamo a due passi dall'acqua non so se il telefonino rende l'idea di come siamo vicini a questo lago e si può andare a fare il bagno comodamente perché il lago non è profondo arriva massimo una profondità di qualche metro nella parte più profonda ed è tutto così praticamente sullo sfondo vedete poi la tutti tutte le montagne che una volta facevano parte come detto prima dell'ex jugosave che poi si è frantumata ed è diventata montenegro kosovo serbia è stata divisa in tanti staterelli che adesso sono indipendenti ognuno dove si sta molto bene vedremo di avere modo poi di andarli a visitare qualche volta ecco qui lui ci sta tornando alla macchina entri attenta luigi vai vai io vado un po più avanti a vedere proprio da vicino l'acqua del lago ricordo sempre che il nostro sponsor unico la vita le rose domenico che offre queste splendide immagini non so se mai la ditta le rose con la sua truppa verrà qui volevo salutare anche il signor cammini canizzaro anche lui sicuramente non credo verrà mai da queste parti però io adesso mi devo fermare perché siamo quasi con i piedi nell'acqua e qui potete vedere c'è qualche barchetta e ci sono quelle io credo che quelle grandi reti che sono ferme lì servono per la cattura dei pesci che ci sono in questo mare credo che poi vengono direttamente pescati e fatti alla griglia direttamente in questi ristoranti che si trovano qui su questo lago dietro invece abbiamo altre catene montuose e da quella parte praticamente c'è credo che più o meno dove si trova questa cima di montagna dovrebbe trovarsi la zona del kosovo dietro questa montagna dove sono venuti i cosiddetti diegli che hanno fondato i paesi albanesi in calabria non avremo tempo di andarci però ci riproponiamo di andarci qualche altra volta chiudiamo con un'altra splendida veduta di questo lago che si chiama appunto lago di scutari noi chiamiamo la città scutari ma loro gli albanesi la chiamano scodere il vero nome di questa città e scoder questo lago praticamente arriva dalla scutari che si trova a 20 chilometri da qui e si prolunga per altri 20 30 chilometri verso il montenegro quindi avrà un'estensione di almeno 50 60 chilometri un lago grandissimo mentre qui da questo lato ci sono c'è una piccola spiaggia quella su cui ci troviamo adesso mentre dall'altro lato il lato del montenegro e il lago si trova praticamente la montagna picco sul sul lago e non è possibile fare escursioni come stiamo facendo noi qui qui sono altre due barche quindi diciamo che questo lago ha due facce e praticamente da una parte una diversa completamente dall'altro chiudiamo con questa panoramica di questi ristoranti per il momento è tutto da teleradio cinghiale stereo da salvatore pedalino da ditta le rose domenico grazie a risentirci ai prossimi filmati